Domenica è stato presentato il libro di Luigi Aloisio. Domenica 5 giugno, nella sala consigliare del Comune di Cardinale, è stato presentato il libro dell'avvocato Luigi Aloisio, Al tuo fianco, in viaggio con mio figlio. Un padre conduce suo figlio in un viaggio attraverso i luoghi e la storia del territorio, riscoprendo la vita e le opere di una grande donna, rispettivamente nonna e bisnonna, dei protagonisti, che è stata una delle prime sindache del Mezzogiorno d'Italia. Un'esperienza di condivisione e arricchimento per entrambi, che dimostra come si possa insegnare ai propri figli a camminare da soli, senza per questo smettere di starli accanto. E come questo sostegno non cessi mai di essere necessario, nemmeno quando si diventa genitori a propria volta. È un viaggio con il proprio figlio, ma è un viaggio reale, perché in effetti è un cammino che si percorre su luoghi reali, anche se è immaginario, perché non si è effettivamente percorso. Però si possono ammirare dei luoghi stupendi che ci sono nelle nostre zone e non vengono conosciuti. Ma è anche un viaggio psicologico, perché è un confronto tra padre e figlio, quel confronto che ci dovrebbe essere sempre tra genitori e figli, per rimuovere quei muri che molte volte ci sono nelle famiglie e che causano dei problemi. Ma sono dei problemi che potrebbero, ripeto, essere risolti con il dialogo e quindi è un invito anche al dialogo. E poi è un dialogo su fatti concreti che sono stati vissuti da me, dal punto di vista professionale, dal punto di vista amministrativo. Quindi sono messaggi che tutti i genitori devono dare ai propri figli su proprie esperienze di vita, in maniera che possano i figli costruire un loro futuro in maniera corretta, equilibrata e soprattutto senza sapere da prontare quei pericoli che la vita pone. Tant'è vero che durante il viaggio ci sono anche fisicamente delle salite, quelle salite che portano le persone, anche il protagonista, soprattutto il padre, molte volte ad avere voglia di arrendersi, però deve essere da guida al figlio. Il messaggio da dare è che non bisogna mai assolutamente arrendersi di fronte alle difficoltà. Come mai questa sera a Cardinale, dopo San Sostenio? Ma Cardinale, io sono molto legato a Cardinale perché ci sono molti amici. Cardinale è un paese, ripeto, un paese che fa parte dell'Unione dei Comuni, quindi io sono stato presidente per tanto tempo, ho avuto un dialogo molto bello con Cardinale, ma soprattutto, ripeto, sono molti amici e quindi mi lega anche dal punto di vista sentimentale molto e quindi era importante venire anche qui. Chi vorrebbe comprare questo libro? Chi vuole comprare questo libro lo deve fare, prima di tutto, nelle librerie possibili, ha sovelato le librerie incontro, so che già ce l'hanno, a disposizione, lo si può comprare anche via internet, alla cassa editrice, alla Chimeric, quindi basta collegarsi alla Chimeric e si può comprare. Certamente è un libro per tutti, è un libro piacevole, è un libro che fa comprendere anche che cos'è la vita e dà anche degli elementi storici, quale la mamma del popolo, una delle prime donne sindache che ci sono state nella costa ionica, proprio a San Sostene, e di cui si parla poco, perché della Calabria si parla sempre per Andrangheta, invece abbiamo delle ottime realtà e un personaggio come Virginio Kunderi, recentemente ha avuto addirittura una statua al comune di Zambrone, in un museo a cielo aperto, è stata definita tra le 14 donne più importanti che hanno dato l'ustro alla Calabria dalla Magna Grecia fino ai giorni d'oggi, quindi era necessario anche riportare le pagine di alcuni momenti della sua amministrazione per fare vedere che la figura femminile nella costa ionica, non solo a San Sostene, tutta la costa ionica, ha avuto una importanza notevole. Ripeto, anche questo è importante ed è un messaggio a capire che la Calabria è tanto, tanto di bello, tra cui personaggi importanti al femminile quale Kunderi Virginie. Sì, effettivamente abbiamo un cartello culturale molto vasto, molto ampio. Ieri sera abbiamo presentato un libro, stasera ne abbiamo l'altro. È un piacere, un onore avere per me stasera qua l'avvocato Aloisio, che oltre ad essere un collega sindaco, l'ho scoperto anche come scrittore, oltre che come avvocato d'eccellenza. Stasera ci presenta il suo libro, Al tuo fianco, in viaggio con mio figlio. In pratica è un racconto nel quale lui porta il figlio in giro per vedere quello che è stato fatto dalla sua famiglia. La sua nonna, quindi la bisnonna del figlio, è stata il primo sindaco donna in Italia. Nel periodo in cui le donne curavano solo la casa, facevano le casalinghe, e questa è stata un'eccellenza, è stato il primo sindaco donna nel nostro territorio. Questa sera abbiamo visto che c'è molta gente qui che vogliono assistere e sapere qualcosa di più di questo libro. Senza dubbio questi eventi culturali stanno avendo un bel riscontro. Sono incontri molto partecipati. Alcuni libri poi piacciono di più, altri di meno. Però diciamo che la gente ha voglia di uscire, ha voglia di ritornare a fare la vita che faceva prima. perché il coronavirus ha bloccato, come ripeto continuamente, tutte le attività. Adesso che stanno riprendendo si vede che c'è la voglia da parte della gente di ascoltare, di sentire, di partecipare a incontri sempre nuovi.